Allora, benvenuti! Siamo qui per la 37 seconda passione della Coppa Snellia. Siamo al 26 settembre in Italia. E' un po' che vuole vedere tutti i calcoli che vuoi. Mi hanno aggiuntato la foto. È una regata tradizionale che faccio molto volentieri. La barca che ho da 5 anni, prima avevo un 40.7, l'ho comprata in Francia. E' una barca di cui sono molto contento, anche se è una barca progettata più per l'Irk che per l'Ork. E facciamo tante regate. Noi preferiamo regate a bastone, però questa qui non me la voglio perdere. Mi piace molto. La regata è intanto storica per noi che siamo sui campi di regata di Anzio. L'abbiamo fatta tante volte. L'abbiamo anche vinta con la vecchia Oreo. Quest'anno di nuovo partecipiamo perché siamo tornati su questo campo con il Ferso 45 che ci ha dato tante soddisfazioni. Quindi vogliamo onorare il circolo, il campo di regata e sfidarsi con gli altri amici che questa volta sono più numerosi e più agguerriti delle ultime volte. Ferso 46 è nato per fare le crociere. Negli anni siamo riusciti a ottimizzare, facendo lavori anche abbastanza importanti. quando abbiamo cambiato il Volvo e poi abbiamo messo le vele quelle giuste da Cruciani. In più anche l'equipaggio perché abbiamo la sezione velica dell'Aeronautica Militare di Bracciano. Quindi con il supporto di questi ragazzi e l'armatore che è Raffaele Giannetti abbiamo fatto questa sinergia. Siamo partiti veramente più di dieci anni fa facendo ancora ultimi all'italiano a Traiano e invece nel 2018 abbiamo vinto l'italiano a Gaeta. Siamo qui per questa regata, è una cosa molto importante perché questa volta l'armatore voleva fare una regata in proprio. È previsto poco vento quindi non sono le condizioni proprio ottimali per questa barca però vedremo di fare del nostro meglio. La regata è tanto che non la faccio ed è una bellissima regata perché passa in posti splendidi. Sicuramente molto interessante anche dal punto di vista tecnico soprattutto con poco vento e prezzo. Grazie a tutti.